Buongiorno a tutti, benvenuti in questa sessione in cui parliamo della laurea magistrale in ingegneria mecatronica, vedremo alcuni aspetti di questa laurea magistrale, cercherò di essere il più possibile sintetico, veloce per toccare tutta una serie di aspetti che sono quelli che vedete in questa slide iniziale e poi come sempre la cosa più interessante sono le vostre domande, come dicevo prima. Allora, come introduzione possiamo dire che la laurea magistrale in ingegneria mecatronica è una proposta volta a formare un ingegnere, una figura professionale in grado di gestire un approccio integrato alla progettazione, un approccio integrato che tenga conto di tutti gli aspetti che vedete in questa slide, quindi la mecatronica si compone di questo fiore che ha questi cinque petali, poi magari ce ne sono altri più piccolini, però i cinque petali principali sono sicuramente i controlli, l'informatica, la parte dei sistemi elettrici, quindi sistemi di attuazione, motori, attuatori, la parte meccanica che è la struttura di qualunque macchina complessa e chiaramente l'elettronica che è un po' il sistema nervoso e di controllo di qualunque macchina complessa e noi ci riferiamo proprio a un settore che è quello della progettazione integrata di macchine complesse perché vogliamo formare una persona che sia in grado di dominare o quantomeno di coordinare molto bene queste cinque aree, quindi l'obiettivo abbastanza chiaro e dichiarato di questa laurea magistrale è proprio la formazione di un sistema integrator che sia in grado di dialogare con gli specialisti del settore, quindi con gli informatici, gli elettrici, i meccanici, gli elettronici e i controllisti, sia in grado di coordinarli, sia in grado di parlare anche la loro lingua e sia in grado avendo competenze interdisciplinarie e trasversale di armonizzare le varie competenze e quindi portare avanti un progetto complesso, anche perché all'interno di un progetto di questo tipo ovviamente l'obiettivo come vedete qua è sempre quello di cercare di costruire delle macchine ad alte prestazioni, ma le alte prestazioni non è detto che siano la somma delle alte prestazioni di ogni settore, tante volte è importante fare un trade off tra i vari sistemi, quindi semplificare una parte della progettazione complicandone un'altra e quindi la conoscenza delle varie problematiche delle differenti aree è fondamentale proprio per cercare di spostare il baricentro della complessità o dell'ottimizzazione a seconda di come la vogliate vedere nel luogo dove nell'area di volta in volta più semplice da utilizzare come luogo della complessità in modo da alleggerire le altre implementazioni, magari si complica la meccanica per semplificare i controlli e l'elettronica oppure si complica l'elettronica in modo che l'algoritmo sia più efficiente e quindi però magari c'è una complessità maggiore nella scrittura del codice e via di questo passo, quindi è fondamentale chiaramente una persona che faccia da direttore d'orchestra. Qua appare, forse non è evidente a tutti, ma la laurea magistrale in meccanica è proprio solo magistrale, non c'è la triennale corrispondente. Tempo fa c'era e poi ci si è accorti che era un po' troppo in sovrapposizione con altre lauree triennali e allora si è cercato invece di fare il gioco opposto, cioè di valorizzare le competenze di partenza dell'area meccanica, proprio per enfatizzare questo aspetto di coordinamento, di interdisciplinarietà della laurea magistrale come bacino di raccolta di tante competenze diverse per dimostrare che è importante avere probabilmente un focus su una delle aree della meccanica, poi però bisogna avere la capacità di buttare gli occhi anche sulle altre quattro aree della meccanica pur avendo un proprio background principale che può essere l'elettronica, la meccanica, i controlli, ma l'obiettivo della meccanica poi dal corso di studi è proprio quello di partendo dalle competenze che vi vengono fornite durante la triennale, di portarvi anche a essere esperti nella system integration e quindi avere ben chiaro il ruolo degli altri settori nella progettazione di macchine complesse. La laurea magistrale ormai è un settore sicuramente riconosciuto, scientificamente riconosciuto anche e tempo fa quando uno parlava di meccanica sembrava una parolaccia, non si capiva bene esattamente cosa fosse. Adesso è abbastanza più una parola sdoganata anche dal punto di vista scientifico, esistono congressi, settori scientifico disciplinari, pubblicazioni che parlano principalmente proprio con un focus particolare sulla meccanica, proprio enfatizzando questo ruolo di system integration che è diventato anche un ruolo proprio dal punto di vista non solo formativo ma anche proprio scientifico e anche con una chiarissima valenza industriale. Quindi poi sicuramente molte delle domande di solito vertono anche su cosa faccio dopo, dove finisco a lavorare, che tipo di lavoro posso fare, eccetera, eccetera, è abbastanza poi un argomento interessante su cui parlare. Parlando della figura professionale, visto che stiamo parlando di lavoro, è importante capire che esattamente partendo dalle cose che abbiamo detto prima, la carta da vendere principale che avete poi in mano diventando ingegneri meccatronici è proprio questa preparazione trasversale ed è proprio questo che è spesso una carta molto ambita e molto, per certi aspetti, lasciatemi anche dire, facile da giocare, è una di quelle carte buone da avere nel mazzo, perché nel momento in cui si parla con le aziende e si arriva ad affacciarsi al mondo del lavoro, le aziende vedono molto di buon occhio questa preparazione molto ampia, che a volte uno dei vostri dubbi, un'altra delle domande tipiche è, ma questa preparazione è molto ampia, non è che è troppo ampia ed è poco specifica e quindi sappiamo poco di tante cose, invece di sapere tanto di poche cose. Allora, domanda assolutamente lecita, l'obiettivo nostro è quello di non farvi diventare dei tuttologi, ovviamente voi sarete delle persone in grado di gestire a medio o alto livello le varie tecnologie che ci sono all'interno di una macchina complessa, immaginate poi i settori su cui si va a parare, sono l'automotive, l'aerospazio, l'area industriale, la robotica, l'energia, allo spazio inteso proprio come sonde, razzi e satelliti, ovunque ci sia una forte interazione tra sistemi di attuazione, sensoristica e controlli, ovviamente c'è di mezzo anche dell'elettronica, quello è il regno del meccatronico. Dicevo prima, ovviamente voi dovrete avere la capacità di parlare con i vostri colleghi dei vari settori specifici, quindi se poi ci sarà da progettare un attuatore estremamente particolare che sfrutta chissà quale principio, dovrete parlare con un ingegnere meccanico o elettrico, se avete bisogno di realizzare una centralina estremamente sofisticata, dovrete poi essere in grado di parlare con un ingegnere elettronico, idem con un ingegnere controllista, però sarete voi a essere in grado di comunicare o condividere le specifiche, definire le prestazioni, definire gli interfacciamenti, definire come quel singolo pezzo si innesta e si integra all'interno della macchina, quindi l'obiettivo è quello di darvi tutti gli strumenti per essere in grado poi di maneggiare con abilità le varie tecnologie. Poi nel momento in cui dovete scendere nell'ultra dettaglio della singola tecnologia, molto probabilmente avrete bisogno di collaborare e lavorare assieme a un collega specialista in quella tecnologia, proprio perché non vogliamo che siate dei tuttologi, ma l'aspetto interessante di questo tipo di laurea è, se volete, proprio la possibilità di toccare all'interno di un progetto e all'interno del vostro futuro lavoro, tanti aspetti diversi e quindi non essere relegati a un singolo pezzo dello sviluppo di una macchina. Poi fortunatamente ognuno sceglie quello che gli piace, come dico io sempre, sceglie la pancia, quindi la vostra pancia che deve decidere, ci sono delle persone tra di noi che sono ultra interessate a scendere nell'infinitesimo dettaglio di una singola cosa, ce ne sono altre che invece preferiscono essere coloro che maneggiano tanti aspetti diversi della progettazione o dello sviluppo di qualcosa. Quindi fortunatamente, questo per dire che non mi sentirete mai dire a me che questo tipo di proposta formativa è migliore di un'altra, non lo dirò mai, è diversa, ha delle peculiarità, ha delle caratteristiche sicuramente originali, quindi fortunatamente siete voi a scegliere in base anche alle discussioni e a occasioni di questo tipo e quindi ben vengano eventi del genere in cui riusciamo a raccontarvi un po' di cose. Esempi, appunto come dicevo prima, dal settore dell'aerospazio al medicale, alla robotica, alla robotica di servizio, io coordino un centro di robotica di servizio, oltre a occuparmi di mecatronica, quindi tantissimi aspetti diversi tra di loro, dove alla fine il denominatore è proprio la compresenza di sistemi meccanici, attuazione, elettronica, controlli, software e il fatto di poterli vedere assieme in maniera coordinata, trovo che sia sicuramente molto interessante e affascinante. L'automotive è la mobilità elettrica, è chiaramente un altro settore che la fa da padrone, in questo momento a sinistra qua vedete un ammortizzatore, sembra un ammortizzatore classico, però invece è un ammortizzatore a recupero di energia, quindi è un'evoluzione degli ammortizzatori normali che diventa un sistema di recupero di energia. Poi invece vedete degli altri esempi di motoruote, quindi un motore elettrico integrato all'interno di una ruota, di un mozzo ruota e quindi sono sviluppi chiaramente più interessanti dal punto di vista della mobilità elettrica, della possibilità di progettare veicoli innovativi, definiamoli così. Il percorso formativo è un percorso in inglese, sull'interdisciplinarietà vi ho già stressato abbastanza, uno degli obiettivi è quello di darvi anche dei riscontri sperimentali, quindi molti dei corsi che abbiamo puntano a una formazione sperimentale, questo chiaramente in una situazione come quella che stiamo vivendo in questi mesi è forse uno degli aspetti critici, stiamo cercando di farci venire un sacco di idee per il prossimo anno in modo da poter essere pronti a qualunque tipo di soluzione, in modo da non far o da far decrescere il meno possibile la parte sperimentale e garantire in questo modo comunque la possibilità per voi di comunque mettere le mani su qualcosa di concreto, io sono un fortissimo sostenitore del fatto che lavagna, esercizi e simulazioni sono fondamentali e poi ogni tanto bisogna bruciarsi le dita in laboratorio, facendo esplodere a qualcosa, perché uno degli aspetti più interessanti è capire come mai qualcosa si rompe, insegna in più un errore, insegna molto di più un errore o qualcosa che esplode, sperabilmente facendo il minor numero di danni e vittime possibili, che non dieci cose che funzionano a primo colpo, a volte senza sapere esattamente perché. L'accesso alla laurea magistrale è un accesso senza debiti, anticipo tante domande che dicono ma se io arrivo da una laurea che non è esattamente una di quelle che assomigliano, che hanno un senso ovvio e diretto con la meccatronica, mi iscrivo con debiti formativi? No, la risposta è no, ovviamente valutiamo i vostri piani di studio della triennale, vi diamo dei consigli, sulla pagina di presentazione della laurea magistrale, dopo vi metto il link, c'è anche, ci sono quattro file in fondo, sotto il video di presentazione della laurea magistrale, trovate quattro file, pdf, con quelle che noi riteniamo devono essere le competenze, diciamo, ragionevolmente acquisite per muoversi nella laurea magistrale, poi senza grossi problemi. Se in base a quelle dispense vedete che siete un po' in ritardo su qualcosa, ovviamente potete compensare, compensate a carico vostro, tra virgolette, cioè un qualcosa che deve essere compensato da voi autonomamente. In ogni caso la laurea magistrale al primo anno prevede un'equalizzazione, come vedete, chi arriva dal settore più ICT fa due corsi, uno di meccanica e uno di macchine elettriche, chi arriva dall'area industriale fa invece due corsi, uno di elettronica e uno di controlli, e quindi c'è questa sorta di X, di incrocio, tra chi arriva dall'area più industriale e chi arriva più dall'area ICT, proprio per compensare un pochettino le competenze. Sapendo benissimo che alcune cose nella triannale non le avete viste, allora noi proprio di default vi aiutiamo a equalizzare un po' queste cose. Poi vedete che il piano adesso è diventato un briciolo più sofisticato, prima c'era un unico orientamento, adesso ci sono cinque orientamenti diversi. In bianco, a parte l'incrocio iniziale, in bianco vedete tutte le cose che sono per tutti, quindi alcuni corsi obbligatori, alcune scelte obbligatorie. Noi in alcuni casi non solo vi diciamo che dovete fare quel corso, ma vi diamo una possibilità in più di scelta. Quindi non ci sono solo le scelte legate agli orientamenti, ai cinque orientamenti, ma ci sono anche delle ulteriori scelte che possono essere fatte da tutti. Questo per darvi proprio maggiore flessibilità, che è sempre stato uno degli aspetti molto apprezzati di questa laurea magistrale. Le scelte, come vedete, sono tre scelte, quindi le carriere si caratterizzano in tre scelte diverse, quindi alla fine non è che siano tanto diverse queste carriere tra di loro, sono tre insegnamenti da sei crediti, quindi per un totale di 18 crediti. L'obiettivo era darvi, da una parte, un'idea di quelle che sono le aree principali in questo momento per la formazione meccatronica, dall'altra darvi proprio un aiutino subito. Per esempio, i cinque orientamenti sono controlli, per chi vuole fare un po' più di quell'area lì, ovviamente, software e sistemi operativi, hardware e sistemi elettronici, automotive e industrial, queste sono le cinque aree in questo momento che abbiamo identificato come essere almeno inizialmente interessanti. E all'interno di queste cinque aree vi diamo già una sorta di piano di studi precostituito. A voi rimangono le scelte, quelle che fanno tutti, quindi, per esempio, qua al secondo anno dovete scegliere tutti, tra model design e optimization, for machine learning, poi avrete sei crediti liberi, dove potete mettere altri corsi che voi ritenete interessanti, anche quelli che eventualmente prima non avete avuto occasione di scegliere. E poi, in fondo, c'è la tesi. Ecco, nei crediti liberi, scusate, potete... C'è una tabella di crediti liberi che sono quelli che noi vi consigliamo, vi suggeriamo, eventualmente, appunto, come dicevo prima, potete scegliere anche quelli che non avete scelto prima, perché magari avete scelto l'orientamento di controlli, però vi interessa il corso di sensor and acquisition e quindi lo volete fare, lo volete mettere come crediti liberi. Benissimo. Basta che non andiate a mettere un corso di teoria del formaggio, controllo di vino rosso o cose del genere, che, pure interessantissimo, non è proprio centrato con la meccatronica. L'ultimo aspetto di cui parlare, interessante, è, eventualmente, il discorso della tesi, che sono 30 crediti. Qua vedete che i 30 crediti di tesi possono, eventualmente, essere splittati in 18 più 12, 18 di tesi più 12 di tirocinio. Questo, se volete, è un trucchetto, io lo chiamo sempre un trucchetto amministrativo burocratico, perché questo split del 30 in 18 più 12 vi fa apparire, più o meno magicamente, all'interno del vostro piano di studi, un tirocinio curricolare. E questo, a volte, è importante, perché se andate a fare la tesi in un'azienda, le aziende, a volte, hanno, per esigenze di assicurazione, di rendicontazione, di sicurezza, eccetera, eccetera, loro vi vogliono vedere, non tanto come dei tesisti, ma meglio come dei tirocinanti curricolari, perché in questo modo riescono a coprirvi l'assicurazione, magari darvi dei benefit, tipo i buoni pasto, cose di questo genere, vi possono esporre come all'interno dei loro progetti, e quindi abbiamo dato questa arma in più, che voi vi potete giocare, nei confronti delle aziende, quindi se l'azienda vi offre una tesi, vi dice, no, questa tesi è disponibile solo per chi fa il tirocinio, e noi, voi avete la soluzione. Tendenzialmente, la tesi rimane 30 crediti, punto, fine. Se c'è bisogno, effettivamente potete fare questo split, e quindi avete una carta in più da giocarvi. Sbocchi occupazionali, ne abbiamo già parlato, quindi tutto quello che è system integration e il regno del meccatronico. Abbiamo delle statistiche molto buone, fortunatamente, come bene o male, tutte le lauree in ingegneria del Politecnico, il tempo di medio di ricerca del primo lavoro è inferiore ai due mesi, quindi addirittura chi fa la tesi, e succede sempre più spesso, ormai le aziende cercano di proporre tante tesi, proprio per accaparrarsi le persone già al quinto anno, quindi voi frequentate già le aziende, già al secondo semestre del quinto anno, facendo la tesi. Quindi, tante volte succede che voi finite la tesi e il venerdì e il lunedì siete di nuovo nella stessa azienda, ma siete assunti. Quindi ci sono situazioni assolutamente virtuose di questo tipo. chi finisce bene, si lavora bene, con un punteggio buono, mediamente ha dalle 4 alle 10 offerte di lavoro nel giro di brevissimo tempo e quindi c'è abbastanza l'imbarazzo della scelta. Quindi è una formazione che è sicuramente molto apprezzata e ci sono anche sicuramente occasioni all'estero. I sbocchi occupazionali li ho anticipati prima e qua assolutamente ci sono le stesse cose di cui parlavamo proprio perché sono i pilastri fondanti di questa laurea magistrale e gli sbocchi, i settori appunto automotive, aeronautica, aerospazio, componentistica, trasporti, sistemi automazioni, robotica industriale di servizio, energie, veramente molti, molti settori diversi. I dati, come vi dicevo prima, sono molto buoni quindi sia come gradimento del lavoro fatto presso il Politecnico sia come gradimento della formazione sia la percezione che si ha quando si va all'esterno e si dice che sono laureato in ingegneria meccatronica e come dicevo prima è una carta buona, assolutamente buona da giocare e quindi i dati anche che si possono trovare sulle banche dati sono sicuramente molto virtuosi. La laurea ha avuto un boom quasi pericoloso nel senso che siamo passati intorno al 2012 era una laurea di 50-60 persone e siamo arrivati in questo momento a 250 quest'anno c'è stata una lievissima flessione ma causata principalmente da questa introduzione noi temevamo potesse succedere qualcosa di molto peggiore l'introduzione di questi orientamenti che hanno un po' forse spaventato barra disorientato ma in generale sono una cosa molto nuova e quindi hanno creato evidentemente qualche piccolo dissesto anche nel comunicare probabilmente questa nuova organizzazione però i numeri che poi dopo adesso incominciamo ad avere per esempio del secondo semestre io per esempio nel mio corso di elettronica di Electronic System for Mechatronics quest'anno ho invece 50 studenti in più complessivamente quindi anche gli studenti che arrivano e acquistano tra virgolette solo corsi singoli del settore mechatronico sono aumentati quindi comunque c'è stata di nuovo una risalita nella seconda parte dell'anno questo è il dato complessivo e quindi c'è diciamo una sorta di stabilizzazione del numero degli studenti e devo dire non sono, forse sono cattivo o cinico ma devo dire che non la vedo anzi la vedo come una cosa positiva perché se il corso avesse continuato a crescere con la stessa derivata tra il 2017-18 e il 2018-19 avremmo avuto veramente degli enormi problemi di gestione quindi posso dire che questa stabilizzazione non mi vede assolutamente scontento anzi è già un numero molto grande siamo molto contenti vuol dire che il lavoro è stato fatto è stato apprezzato soprattutto avere dei numeri più grandi avrebbe creato proprio dei problemi di gestione di organizzazione anche a scapito della qualità stessa del corso la provenienza si è stabilizzata moltissimo vedete che c'è una forte provenienza di meccanici gli elettronici informatici sono un po' meno nel 34-35% di altro c'è che tanta gente arriva da altri atenei con la triennale mecatronica perché da altre parti in Italia o all'estero la mecatronica c'è anche triennale noi abbiamo fatto questa scelta qua diversa ci sono aerospaziali ci sono i biomedici come dicevo prima che sono tanti perché è proprio una piccola mecatronica triennale quindi il proseguimento nella mecatronica magistrale è spesso e volentieri perché si vuole per esempio occupare di robotica medica o sistemi di riabilitazione o robotica di servizio assistenziale o cose di questo genere è assolutamente lo sbocco più giusto più naturale le collaborazioni sono tantissime sia a livello di didattica e quindi di tesi sia a livello di ricerca perché le due cose poi si mischiano un pochettino perché ovviamente i gruppi di ricerca di mecatronica del Politecnico poi offrono anche le tesi le tesi sono innestate sulla magistrale mecatronica quindi ovvio che gli studenti poi si trovino a parlare a vivere all'interno delle aziende che collaborano col Politecnico anche in termini di ricerca quindi vedete qua tanti nomi illustri e meno illustri perché comunque in Italia ci sono anche tante bellissime realtà medio piccole con cui noi lavoriamo molto volentieri e svolgiamo anche questo ruolo di colla di collegamento tra la vostra magistrale quella che farete e il mondo del lavoro quindi la tesi diventa veramente occasione sia di tesi e quindi di didattica sia di collegamento tra Politecnico e aziende per il passaggio delle persone sia di ricerca e trasferimento tecnologico con l'azienda all'interno del Politecnico ci sono due grosse realtà che si occupano di mecatronica uno è il laboratorio interdipartimentale di mecatronica di cui sono uno dei coordinatori e il secondo invece è un centro interdipartimentale che è nato da poco che ha questo nome strano che si occupa di robotica di servizio e che questo coordino io direttamente assieme a altri colleghi ed è un centro interdipartimentale vuol dire che raggruppa proprio 5 dipartimenti esattamente come il laboratorio di mecatronica in questo momento è una realtà dove vivono persone sia del dipartimento di meccanica che di informatica che di elettronica chiudo con i riferimenti e contatti per qualunque tipo di informazione a parte che c'è la sessione di parallelo quindi se uscite di qua e volete entrare nella sessione di supporto di domande e risposte siete benvenuti se volete fare qualche domanda qua anche sicuramente possiamo rispondervi anche qua c'è un gruppo telegram che è quello di mecatronica anche qua dove potete eventualmente sottoscrivervi e fare delle domande e in più vi diciamo già da adesso che dall'8 al 12 giugno ci saranno quelli che chiamiamo gli ICT Days ovvero delle giornate in questo caso ovviamente virtuali da remoto dove vi presenteremo nel dettaglio di nuovo le caratteri un po' quello che avete già visto qua però magari avremo un pochettino più tempo per scendere nei singoli aspetti della magistrale perché si parlerà solo di magistrali quindi parleremo solo di ingegneria informatica cinema, mesi di comunicazione mecatronica e data science che è una laurea nuova che il collegio sta proponendo io penso di aver detto abbastanza giusto tutto quello che dovevo dire c'è forse un po' di tempo se volete fare delle domande o a voce o scrivendole altrimenti Fulvio se vuoi dire qualcosa che mi sono dimenticato assolutamente no sto solo notando che ci sono parecchie domande nella chat già presenti quindi magari possiamo procedere a dare delle risposte abbastanza rapide perché siamo un po' già fuori tempo nel senso che doveva chiudersi 45 e da un momento all'altro rischiamo di chiuderci la stanza quindi l'invito principale è quello di spostarsi per continuare la discussione all'altra stanza di consulenza esatto di cui spero che abbiate tutti il link altrimenti cerchiamo di riformirvelo sì lo recupero intanto magari Fulvio io non lo ho visto io ho qualche domanda così magari rispondiamo al volo a quello più puntuale dunque partiamo dall'inizio Filippo chiedeva cosa ne pensano dei studenti che fanno l'uternale biomedica e poi decidessero di fare questa magistrale penso che le statistiche abbiano già dimostrato che è un percorso già collaudato e abbiamo già seguito da parecchi sulla proclamazione siete programmati dottore magistrale in mecatronic engineering quindi non altre cose ovviamente il corso di laurea è questo in ambito lavorativo più apprezzata la specializzazione o la trasversalità in un'ottica di crescita professionale questa è una bella domanda questa è una bella domanda però esattamente come ho messo il link della chat dell'altra sessione è una bella domanda come dicevo prima ci sono aziende che cercano il super esperto ci sono aziende che si possono permettere uno, due, tre ingegneri e hanno bisogno dell'ingegnere che si è in grado di fare quasi tutto oppure ci sono aziende estremamente rampante abbiamo perso Marcello spero che riesca a ricollegarsi in questo momento io finisco la risposta che stava dando che chiaramente diceva in funzione del tipo di aziende del tipo di lavoro servono entrambe le figure professionali quindi io mi sento di sottoscrivere quanto diceva Marcello Chiabergio prima seguite il vostro istinto cosa vi piace di più fare quindi sicuramente le opportunità professionale ci sono per tutti i tipi di specializzazione sia più generalista sia più specializzata questa è la fortuna di lavorare in questo settore essenzialmente Carmine che ci chiede proveniendo dal triennale ingegnere di automazione della Federico II di Napoli non credo che ci sia nessun debito formativo perché se quella bisogna vedere tecnicamente quella laurea di ingegnere di automazione si è inquadrata nel settore industriale o nel settore dell'informazione ci sono due codici ministeriali diversi si chiamano L8 o L9 se è una laurea del settore L8 di sicuro non ci sono debiti all'ingresso perché è lo stesso settore L8 delle nostre lauree triennali qua al Politecnico se invece l'ingegnere di automazione fosse inquadrata in L9 che è il settore industriale della meccanica nel caso di meccatronica secondo me si riesce lo stesso a entrare e nel caso delle altre lauree del settore CT non è detto quindi bisogna andare a vedere questo dettaglio più che altro tecnico in ogni caso tu puoi fare sempre una simulazione di apply cioè la procedura apply del Politecnico in cui ti viene valutata la tua carriera perché praticamente consegna il piano di studi e lo verificano ma così a distinto direi che non dovrebbe essersi nessun problema di integrazione dei debiti formativi a meno ovviamente di quello che veniva prima chiamato semestre di equalizzazione ovviamente ma questo vale per tutti ma non sono crediti in più sono crediti compresi nei 120 poi vediamo un attimo Alessandro risposto risbocchi professionali ai 5 orientamenti avete visto io purtroppo il tempo è poco quindi come dicevo se avete piacere di conoscere più in profondità potete andare nell'altra stanza ah sì non riesco a parlare magari riesco a darti chi ha perce se c'è se riesco a vederlo tra non riesco neanche a vederti tra i tra gli ospiti e quindi non riesco a ridarti la parola ma vabbè diciamo così che cerco di chiudere il volo sulle cose che so la magistrale è interamente in inglese sì tutti i corsi sono in lingua inglese infatti vedete anche l'alta percentuale di studenti stranieri diciamo lo vado a prendere riguardo i sbocchi professionali sono due o tre domande su questo tema avete visto la varietà di aziende previste quindi diciamo così chiaramente poi ognuno si specializza nel settore che anche gli interessa di più ma gli sbocchi ci sono in tutti questi vari settori Fabio che chiede come divisa grandi linee se meccanica elettronica informatica avete visto i petali che ci sono nella prima e seconda slide che poi verrà messa a disposizione anche sul sito e che fa vedere che grosso modo ci sono delle abbastanza equidimensionate le varie le varie tipi di aree di aree disciplinari l'accesso alla magistrale si fa mediante concorso o no si fa mediante ammissione che deve essere semplicemente accompagnata da documenti che dicano che nella laurea triennale avete fatto un numero sufficiente di crediti quindi non c'è una selezione non c'è un numero chiuso non c'è un concorso per entrare semplicemente la procedura di ammissione che deve sottostare ai requisiti di ingresso ecco voi cercate sul portale della didattica la frase requisiti di ingresso che vi devo spiegare quali sono i criteri che dovete avere Marcello è riuscito a tornare quindi mi dirà che ho detto tante stupidaggine tutto giustissimo cosa c'è ancora c'è la Filippo che chiede quanto guadagno se la prima assunzione o dopo quella cifra della prima assunzione sì sì quella cifra lì poi dipende moltissimo ovviamente anche lì dalle aziende però ci sono aziende che offrono intorno ai 1.300 1.350 altre che offrono 1.500 una ragionevole media intorno ai 1.400 euro come primo stipendio credo che le principali domande le abbiamo toccate sì poi abbiamo il link che la sostanza dall'altra parte la tenete aperta ancora fino alle 17.30 sì ancora mezz'ora c'è ancora mezz'ora di tempo e di là trovate anche dei ragazzi dottorandi assegnisti persone che comunque la mechatronica l'hanno fatta e l'hanno finita anche da poco sono vivi e quindi non sono stati maltrattati non abbiamo maltrattato troppo le persone addirittura le persone hanno voluto fermarsi ancora dopo la laurea a lavorare con noi quindi magari siamo anche un po' simpatici ok va bene chiediamo solo rispondendo a Bruno al volo dicendo che si naviga un po' a vista sull'inglese perché chiaramente dipende da enti di certificazioni esterni per ora il Politecnico ha inventato questo meccanismo interno per non bloccare le persone che si dovessero laureare sul discorso dell'ammissione alla laurea come si recupera la certificazione eccetera credo che saranno provvedimenti che verranno definiti più tardi ci sono già delle indicazioni vi potete immatricolare potete seguire i corsi venite matricolati con riserva mi sembra e avete tempo fino a giugno 2021 ottimo questo è ottimo un'altra notizia perché vale anche per chi arriva da fuori il Politecnico che non ha avuto questo test interno che invece esatto esatto va bene grazie a tutti grazie a tutti arrivederci buona serata